Il governo Draghi ha trasmesso al Parlamento il nuovo piano di ripresa e resilienza di 337 pagine, prima di inviarlo alla Commissione Europea entro venerdì 30 aprile. Il PNRR contiene le indicazioni di spese dei 191,5 miliardi di prestiti e sussidi del Recovery Fund, soldi che saranno spesi assieme ai 13 miliardi di sussidi di ReactEU, un altro programma europeo, e ai circa 31 del fondo complementare finanziato con debito nazionale. Il 40% degli investimenti sono destinati alla transizione ambientale e il 27% alla digitalizzazione del Paese. Per ricevere gli aiuti europei il governo ha dovuto mettere nero su bianco obiettivi e tempistiche, così per esempio nel pacchetto digitalizzazione trova spazio l'obiettivo di cablare con banda ultralarga 8,5 milioni di famiglie e imprese e 9 mila scuole. Per l'ambiente invece il nostro Paese dovrà aumentare la quota d'energia prodotta con rinnovabili. Si prevede anche l'acquisto di più di 3 mila nuovi autobus, mentre il super bonus al 110% per le ristrutturazioni guadagna nel pieno definitivo quasi 4 miliardi rispetto alle prime bozze, ancora però non sufficienti a prorogare lo sconto fino al 2023. Terza voce per importanza sono gli investimenti in istruzione e ricerca. Per questo il governo si è dato l'obiettivo tra il resto di offrire 152 mila posti in più negli asili nido e di costruire e ristrutturare molti edifici scolastici. Per la ricerca invece si punta a finanziare più di 5 mila nuovi progetti scientifici. E poi ancora per le infrastrutture si guarda i treni e così rispuntano tra gli altri i progetti per la Napoli-Bari e la Roma-Pescara. Trovano spazio in oltre quasi 20 miliardi per l'inclusione sociale e 15 per la salute. Gli investimenti devono però essere accompagnati anche da riforme. Ci sono quelle della pubblica amministrazione e della giustizia richieste dall'Europa e poi le nuove regole per la concorrenza e la promessa di riformare il fisco. Mentre per il decreto con le misure più urgenti per la semplificazione burocratica essenziale per far partire i cantieri bisognerà aspettare la prima settimana di maggio. Lorenzo Borga, Schettici24 Grazie per la visione!